Non fermarti per riposare 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Se ne hai con te, sarò lieto di cosa. Eccellente. Tieni qualche septim per te. Non hai un bel aspetto, senza offesa. Ti senti forse male? Buona giornata a te. Va tutto bene? Non hai un bel aspetto. Non hai un bel aspetto. Non hai un bel aspetto. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Ho la migliore selezione di funghi e miceli.